Siamo all'Eurospin di Seravezza, Cerceta, e stamattina ci siamo riuniti in due squadre, tra cui la Rosita, la dottoressa Valentina Torri, una volontaria per Mangi Chiafame. Vedo che da stamattina la raccolta è andata abbastanza bene, come ha risposto la popolazione? Bene, bene, tanti prodotti, anche saponi, cene per la persona, cene per la casa. Quindi ringraziamo questi cittadini che hanno, quali sono i prodotti che più avete acquisito? La pasta, tanta pasta. Vuoi fare un appello in modo che... Un appello, tante cose... Intanto li invitiamo sabato. Sabato per la perifame. Per la perifame. Porta e mangia, sabato, in via Staci Ostaci a Chiedrasanta. Ognuno porta qualcosa e noi gli facciamo vedere quello che offriamo alle persone che sono più bisognose. Quindi questo progetto di cosa bisogna ancora? A parte il sostegno dei cittadini. Sostegno dei cittadini, di cose, di oggetti, scatolame, piselli, facioli. La solidarietà delle persone. Un piccolo gesto salva una persona. Grazie Rosita. Prego, signor Nando Melillo, piacere di averlo conosciuto. Grazie. 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 Grazie.